Un fust inquinante in mare ed un disastro ambientale, evitato con destrezza grazie ad un'operazione sinergica tra cittadini, operatori balneari ed istituzioni. È successo a Gaeta nel pieno della stagione estiva, un barile contenente sostanze pericolose ma regolarmente sigillato, in mare aperto e subito rimosso e messo in sicurezza a seguito di una segnalazione dalla spiaggia di Serapo. Immediati i rilievi della Guardia Costiera dell'Ufficio Ambiente del Comune di Gaeta e dei tecnici dell'ARPA. Quello del barile è una vicenda davvero particolare. Noi siamo stati avvertiti, mentre facciamo altra situazione, che c'era che dal mare affiorava questo barile. Io ero un po' incredulo e pensavo che addirittura fosse uno scherzo. Poi invece c'è stata un'insistenza e quindi poi siamo andati sul luogo e c'è stata una sorta di sinergia con tutti gli altri enti, con i vigili urbani, con la ditta Ecocar, con la Capitana di Porto e con i cittadini e gli spiaggini che ci hanno aiutato a recuperare questo barile. L'abbiamo portato poi in sicurezza e con l'Ufficio Ambiente abbiamo chiamato l'ARPA e l'ARPA sta procedendo, secondo un protocollo che si fa in questi casi, per vedere dentro cosa c'è. Un barile grande. Si presuppone che dentro ci possano stati il liquido particolare e siamo stati bravi e fortunati. Fortunati perché questo barile poteva andare a sbattere sugli scogli e quindi tutto il contenuto poteva invadere tutto il litorale e la spiaggia era praticamente l'estate, era praticamente segnata da questo disastro ecologico. Bravi perché in tempi rapidi abbiamo messo in su questa task force e quindi abbiamo recuperato questo barile, l'abbiamo portato in sicurezza e adesso c'è tutto un protocollo per capire cosa c'è dentro.